Amore e sesso Interrogante Sono un uomo sposato con molti figli. Ho condotto una vita dissipata, alla ricerca del piacere, ma anche abbastanza civile, ed alla fine ho ottenuto il successo. Ma ora ho raggiunto la mezza età e mi interesso non solamente della mia famiglia, ma anche di come va avanti il mondo. Non sono dedito alla brutalità di violente sensazioni e ho sempre pensato che le cose più importanti della vita siano il perdono e la compassione. Senza di esse, l'uomo decate ad uno stato subumano. Perciò, se mi è permesso, vorrei chiedervi cosa è l'amore. Esiste veramente una cosa del genere? La compassione ne dovrebbe far parte, ma io sempre sento che l'amore deve essere qualcosa di molto più ampio e se potessimo analizzarlo insieme, forse riuscirei a trasformare la mia vita in qualcosa di utile, prima che sia troppo tardi. Sono venuto proprio per farvi questa domanda. Che cos'è l'amore? Krishnamurti Prima di cominciare ad approfondire l'argomento, è bene che si abbia veramente chiaro in mente che la parola non è la cosa. La descrizione non è il descritto, perché qualsiasi spiegazione, per quanto sottile e intelligente, non potrà aprire il cuore all'immensità dell'amore. Dobbiamo ben capirlo. E non solamente a parole. Le parole sono utili per comunicare, ma quando si parla di qualcosa non verbale, bisogna stabilire una comunione tra di noi, di modo che entrambi si provi e si intenda la stessa cosa, allo stesso momento, con pienezza di mente e di cuore. Altrimenti non faremo altro che giocare con le parole. Come possiamo avvicinarci a questo argomento veramente molto sottile che non può essere attinto dalla mente? Dobbiamo procedere con una certa esitazione. Non è meglio se cerchiamo di sapere prima quel che non è, in modo che dopo forse potremo dire quello che è. Tramite la negazione potremo arrivare alle affermazioni, ma limitarsi a cercare le affermazioni porta a ipotesi e conclusioni che generano divisione. Voi chiedete cos'è l'amore. Diciamo che potremo saperlo quando sapremo quel che non è. Qualsiasi cosa che generi una divisione, una separazione, non è amore, perché in quella cosa c'è conflitto, lotta e brutalità. Interrogante Cosa intendete con divisione, separazione che genera conflitto? Cosa intendete quando dite così? Crescena morti Il pensiero di per sé stesso tende a dividere. È il pensiero che cerca il piacere e lo possiede. È il pensiero che coltiva il desiderio. Interrogante Potresti analizzare un po' più a fondo il desiderio? Crescena morti C'è la visione di una casa, la sensazione che sia carina, quindi c'è il desiderio di possederla e di ricavarne piacere e di ricavarne piacere. Infine, c'è lo sforzo per possederla. Tutto ciò costituisce il centro e questo centro è la causa della divisione. E il centro è la sensazione dell'Io che è causa di divisione perché proprio la sensazione dell'Io è una sensazione che divide. La gente lo ha chiamato l'Ego o con un sacco di altri nomi e l'Io inferiore in contrapposizione a qualche idea di un Io superiore. Ma non c'è alcun bisogno di complicare le cose. È una cosa semplicissima. Quando c'è il centro che è la sensazione dell'Io che nelle sue attività si isola c'è divisione e resistenza. Tutto questo è il processo del pensiero. Perciò, quando domandate che cos'è l'amore perciò, quando domandate che cos'è l'amore si sa che non fa parte di questo centro. L'amore non è piacere o dolore né odio né violenza in alcuna forma. Interrogante Allora in questo amore di cui parlate non deve esserci il sesso perché non deve esserci piacere? Per favore non giungete a delle conclusioni. Stiamo indagando ricercando. Qualsiasi ipotesi o conclusione impedisce un'ulteriore ricerca. Per rispondere alla domanda dobbiamo anche analizzare l'energia del pensiero. E il pensiero come abbiamo detto sostiene il piacere pensando a qualcosa che è stato piacevole coltivando nell'immagine l'aspetto. Il pensiero genera piacere. Pensare all'atto sessuale genera concupiscenza che è assolutamente diversa dall'atto sessuale. Desiderare ardentemente prima e dopo l'atto sessuale è lipidine. Questo desiderare è il pensiero e il pensiero non è amore. Interrogante Può esserci il sesso senza il desiderio del pensiero? Crescina morti. Lo dovete scoprire da solo. Il sesso gioca un ruolo estremamente importante nella nostra vita perché è forse la prima profonda diretta esperienza che si fa. Noi ci adattiamo, imitiamo, seguiamo, obbediamo sia intellettualmente che emotivamente. C'è dolore e lotta in ogni nostro rapporto tranne che nell'atto sessuale. Ben presto ci abituiamo a questo atto per la sua diversità e la sua bellezza e così piano piano si trasforma in una schiavitù. La schiavitù è la richiesta di una sua ripresa. Di nuovo l'azione del centro che genera divisione. Si è tanto ostacolati intellettualmente in famiglia nella comunità per la moralità sociale per le regole religiose così limitanti che ci resta solamente questo rapporto in cui ci sia libertà ed intensità. Perciò gli attribuiamo un'importanza straordinaria. Ma se ci fosse ovunque libertà allora non ci sarebbe questa bramosia e un tale problema non sussisterebbe. Noi ce ne facciamo un problema perché non lo abbiamo goduto abbastanza o perché ci sentiamo colpevoli di averlo goduto o perché godendolo abbiamo infranto le regole che la società aveva stabilito. È la parte vecchia della società che chiama permissiva la parte nuova perché per quest'ultima il sesso è parte della vita. Nel liberare la mente dalla schiavitù dell'imitazione dell'autorità del conformismo e delle regole religiose il sesso ha un suo posto ma non sarà esauriente. Da ciò si può vedere che la libertà è essenziale per l'amore non la libertà della rivolta non la libertà di fare quel che ci pare e piace neanche l'indugiare segretamente o apertamente nelle proprie bramosia ma piuttosto la libertà derivante dalla comprensione dell'intera struttura della natura e del centro. Allora la libertà è amore. Dunque la libertà non è sfrenatezza. Crescina morti No la sfrenatezza è schiavitù. L'amore non è né odio né gelosia né ambizione né spirito competitivo con la paura di fallire che ne deriva. Non è l'amore di Dio né l'amore degli uomini che è ancora di visione. L'amore non è mai prerogativa di uno o di tanti. Quando c'è l'amore è personale e impersonale con o senza oggetto. È come il profumo dei fiori. Uno o più possono odorarlo. Quello che importa è il profumo non a chi appartiene. Interrogante Il perdono come entra in tutto ciò. Quando c'è l'amore non può esserci perdono. Il perdono giunge sempre quando avete accumulato del rancore e il perdono è il risentimento. Quando non ci sono ferite non c'è bisogno di cure. È la disattenzione che porta il risentimento e l'odio. Di essi diventiamo consapevoli e quindi perdoniamo. Il perdono accentua la divisione. Quando siete consapevoli di stare perdonando state commettendo un errore. Quando siete consapevole di essere tollerante allora siete intollerante. Quando siete consapevoli di essere nel silenzio allora non c'è silenzio. Quando intenzionalmente cominciate ad amare allora siete violento fino a che ci sarà un osservatore che dice io sono oppure io non sono non può esserci amore. Interrogante La paura che posto ha nell'amore? Crescina Morti Come potete fare una simile domanda? Dove c'è l'uno non c'è l'altra. Quando c'è l'amore potete fare quel che volete. Ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita. Condividi nei commenti la tua esperienza metti mi piace e iscriviti al canale di Doeia per ascoltare altri contenuti simili. Ci vediamo nel prossimo video.